I contagi continuano a salire ma il leader della Lega, Matteo Salvini, non vuole lasciare la battaglia contro le restrizioni a Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia e anche lui si è messo di traverso. Per tutta la giornata è proseguito il confronto nella cabina di regia sulle nuove misure da adottare per fronteggiare l'epidemia Covid. Già ha convocato il Consiglio dei Ministri per questa sera che, dopo l'accordo tra le forze politiche della maggioranza, dovrà emanare il nuovo decreto sul cambio dei colori e le nuove misure a partire dal Green Pass. La decisione verrà comunicata ai cittadini dal Premier Mario Draghi al termine del Consiglio dei Ministri in conferenza stampa. Al centro del confronto scontro c'è il Green Pass, il certificato che attesterà l'avvenuta immunizzazione vaccinale oppure il tampone a 48 ore con risultato negativo. E sarà solo con il Green Pass poi che si potranno frequentare luoghi di ritrovo ad alta frequentazione. Il leader della Lega, Matteo Salvini, che non ha mai smesso di fare campagna elettorale, ha deciso di cavalcare l'onda e di puntare ai consensi del numeroso popolo dei non vaccinati e di quanti nutrono dubbi. Ci sono 30 milioni di italiani che non sono ancora coperti da dosi di vaccino. Quindi io invito a mettere in sicurezza tutti coloro che hanno più di 60 anni perché sono quelli che rischiano la vita se raggiunti dal Covid. Però non si può, a metà luglio, togliere i diritti, il lavoro, la speranza, gli stipendi a 30 milioni di italiani, ha detto il leader del Carroccio, con una sottolineatura, mettere in sicurezza coloro che rischiano sì, ma io ha aggiunto sento parlare di obbligo vaccinale per i bimbi di 12 anni. Assolutamente no e quindi bisogna educare, spingere, motivare, non multare, vietare o chiudere. Mi auguro che non si torni alle chiusure. Salvini poi ha annunciato che si vaccinerà presto e che sta aspettando il suo turno, per la verità da mesi che poteva prenotarsi, NDR. Pronta la replica di Simona Malpezzi, presidente dei senatori del PD che mette in dubbio la permanenza e l'appoggio della Lega al governo Draghi, la politica è il dovere di dare un messaggio chiaro agli italiani, a partire da Salvini che rappresenta tantissimi cittadini. Abbiamo il dovere di dire che il vaccino è ciò che ci consente di proteggere la popolazione e di non richiudere più. Con il vaccino si limitano i contagi, le ospedalizzazioni e si riduce la possibilità che si sviluppino nuove varianti. Non rischiamo più lockdown e chiusure e non mettiamo in pericolo la ripresa economica. Dobbiamo dire che i vaccini servono, dare il buon esempio. Le forze che sostengono questo governo non possono avere dubbi perché altrimenti significa che non lo stanno sostenendo più, ha detto Malpezzi.